Entro il 2020 Lega Coop Bologna assumerà 800 giovani occupati in più. Lavoro e ambiente sono gli obiettivi dell'associazione, mentre oltre ai piani di formazione non verranno dati più incariche ai pensionati, ma bensì ai giovani. Sono alcune priorità emerse nel corso dell'annuale assemblea dei delegati di Lega Coop che si è tenuta nel centro congressi di FICO Italy World. Bologna potrà così centrare 10 obiettivi sui 17 indicati dall'alleanza per lo sviluppo sostenibile. I numeri di Lega Coop nella città metropolitana sono l'11% del complesso degli addetti e quasi il 24% del fatturato totale delle imprese. Ecco una fotografia dell'ultimo anno da parte di Simone Gamberini, direttore generale Lega Coop Bologna. Abbiamo cercato di capire quali erano i bisogni delle imprese cooperative bolognese, abbiamo cercato di costruire una serie di azioni che potessero rispendere in modo migliore questi bisogni. Sicuramente il supporto alla trasformazione digitale, l'impegno verso la sostenibilità come cultura di impresa e l'attivazione anche di servizi dedicati quasi sartoriali per le nostre imprese ha rappresentato un percorso vincente in questi anni per la vita della nostra associazione. Sono tante le proposte cooperative che stanno partecipando al nostro concorso Coop Startup, le stiamo selezionando, ci sono idee di imprese molto interessanti, stanno però nascendo anche imprese, nuove imprese cooperative come Workers Buyout, quindi imprese tradizionali andate in crisi che vengono risollevate dai lavoratori che diventano soci di una cooperativa che fa ripartire una parte dell'attività dell'azienda d'origine. Rita Ghedini, presidente Lega Coop Bologna, ha tracciato invece un quadro più problematico della situazione politica e sociale del nostro paese. Siamo ripartiti con la crescita quasi due anni fa e registriamo una frenata. Temiamo le gelate perché non riusciamo a leggere e con noi mi sembra molti altri qual è in termini coerenti e lungimiranti il disegno per la crescita economica e sociale di questo paese. Abbiamo un paese sempre più frammentato, sempre più incattivito, in cui le relazioni sociali peggiorano, eppure è un paese pieno di risorse, anche di risorse immateriali, un paese in cui ancora c'è solidarietà, c'è la capacità di mettere in moto energie che non sono solo quelle che derivano dallo scambio economico. Questo ci fa dire che come associazione di rappresentanza abbiamo terreno fertile su cui lavorare, dobbiamo anche noi innovare il nostro modo di lavorare, dobbiamo pensare di più ai progetti, di più ai valori che li guidano e che li ispirano, di meno all'organizzazione. L'organizzazione si deve adattare ai fini che insieme alle nostre cooperative decidiamo di perseguire e non il suo contrario. Infine Mauro Lusetti, presidente Lega Coop nazionale, ha riconfermato alcuni punti fermi della cooperazione. La capacità dell'organizzazione cooperativa di mettersi in mezzo alle fratture di questo paese e cercare di ricucire possa nascere solo se questi tre elementi si riescono a conciliare. Una dimensione e una visione europea in termini culturali e in termini economici, la capacità di immaginare le nostre cooperative come luoghi di economia sostenibile e una rappresentanza politica in grado, forte, in grado di rappresentare nei confronti delle istituzioni e dell'opinione pubblica ciò che questo nostro splendido mondo è in grado di fare per il paese e per l'Europa. Dopo 130 anni di cooperazione le ha detto, nonostante tutto, ottimismo? Assolutamente sì, perché noi siamo nati per rispondere a bisogni delle persone e finché saremo fedeli a questo nostro DNA antico sicuramente avremo capacità di risolvere i problemi e di vederci proiettati al futuro. Grazie! 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 Grazie!